La British Petroleum ha posizionato questa notte un tappo nel pozzo danneggiato, dal quale da sei settimane esce Greggio. Secondo la società petrolifera, ci vorranno ora tra le 12 e le 24 ore per capire se la misura adottata funzionerà, anche perché le scorse settimane sono state segnate da ripetuti fallimenti. Stavolta i tecnici sono riusciti, con una gigantesca cesoia manovrata da robot sottomarini, a tagliare la tubatura a 1600 metri di profondità, da cui fuoriesce il petrolio. Il taglio è però molto irregolare e per questo non è chiaro se il tappo imbuto che gli è stato a posto leggerà. L'imbuto collegato a un tubo dovrebbe permettere di pompare il petrolio verso una nave cisterna in superficie, ma c'è il rischio che non sia stato posizionato correttamente. Quest'ultimo tentativo non è servito a calmare l'ira di Obama, che dichiara «Sono infuriato per questa situazione, perché è un esempio di persone che non pensano alle conseguenze delle loro azioni», ha affermato Obama nel corso di un'intervista alla CNN. Tutto ciò mette in pericolo un intero modo di vita e tutta una regione, probabilmente per diversi anni.